Cari amici, il governatore della banca centrale ungherese ha detto chiaramente che l'euro è stato un errore che l'euro non è altro che una trappola francese ed ha chiesto un meccanismo di uscita dall'euro. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al Financial Times che l'ha pubblicata. Dobbiamo ammettere che l'euro è stato un errore, è giunto il momento di cercare una via d'uscita. La valuta comune europea non era affatto normale perché quasi nessuna delle condizioni preliminari era stata soddisfatta. Dichiarazioni che fanno scalpore, no? Non solo perché a parlare è il direttore di una banca centrale, ma soprattutto perché l'Ungheria, pur facendo parte della comunità europea, non ha mai adottato l'euro. Infatti utilizza come moneta il fiorino ungherese. In Ungheria il percorso per l'adozione della moneta unica non si è ancora completato, nonostante sia iniziato nel lontano maggio del 2004. Insomma l'Ungheria, dopo l'Inghilterra, chiede di uscire dall'euro senza praticamente esserci mai entrata. Il governatore della banca centrale ungherese chiede un meccanismo per l'uscita dall'euro. Insomma chiede una soluzione, e questo è curioso, una soluzione simile a quella contenuta nella prima versione del contratto per il governo del cambiamento, quello della Lega e del Movimento 5 Stelle. Due decenni dopo il lancio dell'euro, la maggior parte dei pilastri necessari per una moneta globale di successo, uno Stato comune, un budget che copra almeno il 15-20% del prodotto interno lordo totale della zona euro, un ministro delle finanze della zona euro, mancano ancora. Raramente ammettiamo le vere radici della decisione sconsiderata di creare la valuta comune. È stata una trappola francese. Mentre la Germania si unificava, François Mitterrand, l'allora presidente francese, temeva un crescente potere tedesco e pensava che convincere il paese a rinunciare al marco tedesco fosse sufficiente per evitare un'Europa tedesca. Il cancelliere dell'epoca, Helmut Kohl, cedette e considerò l'euro il prezzo finale per una Germania unificata. Si sbagliavano entrambi. Ora abbiamo una Germania europea e non un'Europa tedesca e l'euro non è stato in grado di impedire l'emergere di una forte potenza tedesca. Poi il governatore sferra l'attacco finale, un attacco impietoso dal quale Unione Europea ed Euro escono distrutti. È giunto il momento di svegliarsi da questo sogno dannoso e infruttuoso. Un buon punto di partenza sarebbe riconoscere che la moneta unica è una trappola praticamente per tutti i suoi membri, per ragioni diverse, non una miniera d'oro. Gli stati dell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno della zona euro, dovrebbero ammettere che l'euro è stato un errore strategico. L'obiettivo di costruire una valuta occidentale globale che competa con il dollaro era una sfida per gli Stati Uniti. La visione europea degli Stati Uniti d'Europa ha portato a una guerra americana aperta e nascosta contro l'Unione Europea e la zona euro negli ultimi due decenni. Dobbiamo capire come liberarci da questa trappola. Gli europei devono rinunciare alle loro rischiose fantasie di creare un potere in grado di competere con gli Stati Uniti. I membri della zona euro dovrebbero essere autorizzati a lasciare la zona di valuta nei prossimi decenni e quelli rimanenti dovrebbero costruire una valuta globale più sostenibile. Celebriamo il trentesimo anniversario nel 2022 del Trattato di Maastricht che ha generato l'euro riscrivendo il patto. Più chiaro di così, l'euro è stato una trappola praticamente per tutti i paesi e non è certo una miniera d'oro. L'euro è stato un errore strategico e dobbiamo capire come liberarci da questa trappola. Insomma, gli Stati Europei devono essere autorizzati ad uscire, a poter uscire dall'euro. Cosa volete che vi dica, cari amici? Magari fosse, no? Magari questo accadesse realmente. Certo è che questa è stata una posizione, una presa di posizione netta, nettissima, una presa di posizione che non lascia spazio a dubbi. L'Ungheria si è schierata contro l'euro e vuole uscirne. Christine Lagarde, neodirettore della BCE e della Banca Centrale Europea, intervenuta ad una serata dedicata all'ex ministro delle finanze tedesco Schäuble e attuale presidente del Parlamento tedesco, ha dichiarato L'euro è popolare come non mai presso il grande pubblico europeo. Nonostante le molte preoccupazioni sulla crescita delle idee estremistiche e sul imbarbarimento della dialettica politica, il sangue freddo mantenuto da Schäuble nei numerosi passaggi critici dell'eurocrisi ci ricorda di essere fiduciosi in noi stessi e nella tenuta delle nostre istituzioni democratiche europee. La Lagarde, anche se non ha citato direttamente il direttore della Banca Centrale Ungherese, ha voluto così rispondere alle sue affermazioni e tranquillizzare tutti. E guarda caso la Lagarde dice esattamente l'opposto di quello che sta accadendo, no? Perché non è vero che l'euro non è mai stato così popolare, semmai è vero che mai, come in questo momento, l'euro è impopolare, non è mai stato così impopolare. Guardiamo i francesi, no? I gile gialli protestano da mesi e mesi, anche per questo, anche perché vogliono uscire dall'euro. In Italia il malcontento cresce, l'Ungheria chiede di uscire dall'euro, ma per la Lagarde va tutto a gonfie vele. Insomma l'euro va al massimo, come direbbe Vasco Rossi. Ma la cosa più interessante è che, guarda caso, di chi è la colpa per la Lagarde non certo degli errori fondamentali su cui è stato costruito l'euro, no? La colpa è tutta dell'aumento delle idee estremiste e soprattutto dell'imbarbarimento della dialettica politica. Insomma, per la Lagarde la colpa non è delle fondamenta marce, no? La colpa è dei populisti e dei sovranisti che lo fanno notare, no? Che fanno notare che l'euro è un palazzo costruito su delle fondamenta marce e che, pertanto, non potrà che crollare. Chissà perché, ma questo modo di ragionare mi ricorda tanto i discorsi del PD, dei 5 Stelle, di Conte. Mi ricorda tanto un'insulsa commissione. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.